Ecco la nostra prima serie del manco, la vita di Storio Camponi, sono la vita di Rossi, meccina intanto i giuntati della quarta serie, vittoria durante i primari, 40,65, la vacca di un'altra parte di Gatto, 15,11, la volta di Storio con 50 e 42, quarta grama, signorio, 173, siamo venuti a quella di quarta parte, sentite, sento che si va per noi, che sono di questo partito, i ragazzi di bianco, le presto per l'altra, e vi faccio vedere la prima parte di Berlusconi, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.